Attivare la stazione di Blippi! Mi sveglio e già lo so, con le mie domande imparerò... Blippi! La pioggia smetterà presto, Tubs! Grande! Ho appena finito di colorare il mio disegno! Riesci a indovinare cos'è? Bravo, Tubs! È proprio così! È un pinguino con in mano una tazza di tè mentre pattina nella giungla, con tanti bei colori! Wow! Un arcobaleno! Ha tanti bei colori anche lui! Mi domando, come fa un arcobaleno ad avere quei colori? Idea geniale, Tubs! Possiamo volare, chiederlo all'arcobaleno e scoprirlo ma prima mi serviranno delle ali! Ali confermate! E andiamo a esplorare! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire come fa un arcobaleno ad avere quei colori! Ragazzi e ragazze, attenzione prego! Il grande cielo blu è fiero di presentarvi il più grande influencer della natura! Io sono Archetto l'arcobaleno! Wow! Ciao! Io sono Blippi! Sono un tuo grande fan, Archetto! Conosco tutti i tuoi colori! Grazie, grazie, grazie! Sono molto fiero dei miei colori! Lascia che te li mostri uno ad uno, d'accordo? Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto! I miei complimenti, Blippi! Ehi, sai, oggi è un grande giorno! Stiamo per trasmettere uno strabiliante doppio arcobaleno! Oh, devi far parte della mia diretta! Davvero? Sarei molto onorato, però non so come ottenere questi colori! Tu puoi mostrarmelo? Ma certo, mio superfan Blippi! Prima cosa, guarda questa bella nuvola chiamata Cumulo Nembo! Oh, sembra abbia appena piovuto, quindi è perfetto! Vuol dire che ci sono tante goccioline d'acqua nell'aria! Wow! In questa nuvola ci sono tante piccolissime gocce d'acqua! Hashtag vero! Adesso, il prossimo passo! Posiziona la nuvola in modo che la luce del sole passi attraverso le goccioline d'acqua! Ecco così! Ora, quando la luce attraversa l'acqua, si piega o si rifrange e si separa in tutti i diversi colori dell'arcobaleno! Voilà! Ma è fantastico! E credo di avere la risposta alla mia domanda! Come fa un arcobaleno ad avere tutti quei diversi colori? È perché... Quando la luce del sole attraversa l'acqua, la luce si rifrange e si divide formando tutti i vari colori dell'arcobaleno! Carica la risposta, Tabs! E cinque, sei, sette e otto! Wow! Non dimenticare di seguirmi e mettermi like, d'accordo? Arrivederci! Ci si vede, Blippi! Cosa c'è di meglio di un delizioso pezzo di frutta? Hai ragione, Dibo! Anche le verdure sono deliziose! Mi domando, quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Suggerimento super! Faremo una visita in quell'orto per capirlo! Mi serviranno le ali e il braccio a chiappatutto! Ali, braccio a chiappatutto, confermati! Blippi e Dibo scoprono il cibo! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Eccoci qua! Siamo in un orto di quartiere, dove crescono diversi tipi di frutta e anche di verdura! Guarda, laggiù c'è qualcuno! Fatevi avanti! Siete i prossimi concorrenti del gioco a quiz presentato da me, Smilzo il cetriolo! Frutta o verdura! Ci dite i vostri nomi! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! Ora, Blippi e Dibo, un ripasso veloce prima di iniziare! Tutti i frutti hanno un nocciolo o dei semi e crescono su una pianta con dei fiori! I frutti hanno noccioli o semi e sempre fiori, capito? E invece le verdure sono diverse, hanno radici e foglie! Capito, anche questo! Fantastico! E allora giochiamo! Dimmi, Blippi, questa carota è un frutto o...? Uh, questa carota è una verdura! Perché è una radice e ha anche le foglie! Esatto! Procediamo con la seconda domanda, Blippi! Allora, dimmi, questo pomodoro è un frutto o è invece una verdura? Mmm, questa è difficile! Allora, il pomodoro cresce su una pianta, però ha anche i semi! Provo a indovinare, è una verdura? Oh, che peccato! Il pomodoro è un frutto! Ora, la tua ultima domanda, Blippi! Sai dirmi se questa bella fragola è un frutto oppure una verdura? La fragola è... è un frutto? Sì, la fragola è un frutto! E hai dato due risposte corrette! Quindi questo trofeo è tutto tuo! Grazie, Smilzo il cetriolo! E ora ho anche la risposta alla mia domanda... Quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Le verdure hanno radici e foglie e i frutti hanno fiori e un nocciolo o semi! Carica la risposta, Dibo! Ciao, Smilzo il cetriolo! Ciao e congratulazioni, Blippi! Questo è il nostro gioco! Io sono Smilzo il cetriolo e, a proposito, sono un frutto! Alla prossima! Con un ospite speciale, Madame Mango su... Frutta o verdura! Adoro il cioccolato! Solo un po' una volta ogni tanto! Lo adori anche tu, Dibo? Hai ragione! I cani non possono mangiare il cioccolato! Fa male al loro stomaco! Mi domando... Come si fanno le tavolette di cioccolato? Idea geniale! Possiamo andare in quella fabbrica di cioccolato e scoprirlo subito! Mi serviranno ali, overcraft e un motore a propulsione! Ali, overcraft, motore a propulsione confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Entriamo nella fabbrica a fare delle tavolette di cioccolato! Ehi là! Non siete fave di cacao? Ne ho bisogno per iniziare a fare le tavolette! Direi di no! Io sono Blippi e lui è Dibo! Ciao Blippi! Ciao Dibo! Sono Etta la tavoletta di cioccolato! Benvenuti nella mia fabbrica di cioccolato! Grazie Etta! Vorrei vedere come sono fatte le tavolette di cioccolato! Possiamo venire con te! Cioccolatamente! Tutto inizia con le fave di cacao che provengono dalle piante! E come fanno a diventare delle tavolette di cioccolato? Le fave di cacao fanno un piccolo viaggio! Prima tappa un bel bagno! Poi vengono arrostite e tostate! Per poi essere trasformate in una polvere molto molto fina! La polvere di cacao viene poi mescolata con zucchero e latte e diventa dolce e saporita! Andiamo Dibo! È ora di sciare! No! Ma sarà divertente! Una Dibo tavoletta di cioccolato! Dopo il cioccolato si raffredda in forma di tavolette! Le avvolgiamo e sono pronte! Da-da! Oh! Voi due siete identiche! E io ho la risposta alla mia domanda! Come si fanno le tavolette di cioccolato? Le fave di cacao vengono lavate, tostate, polverizzate e mescolate con latte e zucchero e poi il tutto raffreddato in una tavoletta di cioccolato! Carica la risposta, Dibo! Etta, grazie per questa dolcissima gita! Quando vuoi! Ciao, Blippi! Ciao, ciao! Oh, guarda quel simpatico scogliattolo che scava una buca! Lo hai visto mentre seppellisce quella noce? È proprio così, Dibo! Abbiamo bisogno di conoscere la risposta! Mi domando, perché gli scogliattoli seppelliscono le noci? Mi serviranno il braccio escavatore e... le ali! Braccio escavatore, ali confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi Mobile è pronta per l'avventura! Guarda, Dibo! Quella è una ghianda! È un tipo di noci che gli scogliattoli adorano! Vieni qui, scogliattolino! Abbiamo una bella sorpresa! Noci! Noci! Ho bisogno di più noci! Non ne ho mai abbastanza! Ciao! Io sono Blippi e lui è il mio amico Dibo! Abbiamo trovato questa per te! Una noce! Grazie mille, Blippi! Il mio nome è Scheggia! Sono un esperto di noci e ghiande! E allora dici, Scheggia! Perché gli scogliattoli seppelliscono le noci? Che? Perché tu non lo fai? Vieni con me, non perdiamo tempo! Servono noci, noci, noci e ancora noci! Questo è il giardino, il mio posto preferito per seppellire i miei tesori! Sai, posso seppellirne anche 25 in un'ora! Sono molti da nascondere! Come fai a ricordare dove li hai messi tutti? Tengo tutto qui nella mia piccola testa pelosa! Ho una memoria incredibile! Credi di avere anche tu una memoria buona come la mia? Vuoi metterla alla prova? Certo che voglio! Ecco, ora guarda! Fatto! Ti ricordi dove ho appena seppellito tutte le mie ghiande? Sì, che me lo ricordo! Che ci vuole? Non è una ghianda! Ma è più difficile di quanto credessi! Oh, ciao, noce deliziosa! Non riusciamo a trovarne neanche una! È vero! Perché io nascondo accuratamente le mie noci così solo io so dove sono! Le tengo al sicuro e poi le dissotterri in inverno quando ho fame e il cibo fuori è difficile da trovare! Una trovata geniale! E io ho trovato la risposta alla mia domanda Perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Gli scoiattoli seppelliscono le noci e altro cibo in modo da averne abbastanza anche durante l'inverno! Carica la risposta, Dibo! Ciao, scheggia! Ciao, ciao! Continua così! Vedo la luna, le stelle e... Quello è un pianeta! Oh, sì, Tubbs! Oh! C'è una vastissima area là fuori nello spazio con i pianeti e il sole! Si chiama Sistema Solare! Mi domando... Quali pianeti ci sono nel Sistema Solare? Idea geniale, Tubbs! Possiamo andare a indagare nello spazio! Mi servirà un motore a razzo! Motore a razzo confermato! Attivare la stazione di Blippi! Ora è il momento di farci grandi come un pianeta! Espansione! Espansione! Bene, Tubbs! Siamo nello spazio! Uh, c'è una meteorite! Ciao! Io sono Blippi! Benvenuto nello spazio! Io sono Mary, la meteorite! Sono qui per scoprire tutti i pianeti del nostro Sistema Solare! Molto bene! Ci sono otto pianeti nel nostro Sistema! Siete pronti a conoscerli? I più vicini al Sole Ardente sono i due pianeti più piccoli e più caldi, Mercurio e Venere! Si è cotto troppo! Dovremmo andare! Il terzo pianeta è la vostra casa, la Terra! Ciao, mamma! E poi c'è Marte, il pianeta rosso! Marte è rosso perché è ricoperto di ossido e di ferro! Sì, ma è un po' troppo polveroso! Andiamo! Il prossimo è il gigante Giove, più grande di tutti i pianeti messi insieme! A me non fa paura! Wow! Però è meglio ci andiamo! Di sicuro adesso siamo molto lontani dal Sole! Vi presento Saturno e i suoi anelli! Oh, sono davvero tanto belli! Ci possiamo avvicinare? Sì, certo! Sì! Aspetta! Non abbiamo ancora finito! A sinistra c'è Urano! A miliardi di chilometri dal Sole! Freddino! Un applauso per il più lontano! Il più ventoso e il più freddo dei pianeti, Nettuno! Blippi! Wow! Ho la risposta alla mia domanda! Quali sono i pianeti del nostro Sistema Solare? Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno! Carica la risposta, Tabs! Grazie per la visita guidata! Molto astro divertente! Ciao, Blippi! Sei pronto per la pioggia? Una bella pioggia di meteoriti! Ciao, Mary la meteorite! Ciao! Sì, hai ragione, Dibo! Le ragnatele hanno tutte dei disegni veramente artistici! Mi domando... Come fanno i ragni a tessere le ragnatele? Sì! Andiamo a cercare un ragno al quale chiedere! Mi serviranno ali e zampe di ragno! Ali, zampe di ragno, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi Mobile è pronta per l'avventura! Buongiorno, io sono Spencer! Giusto in tempo per vedermi realizzare la mia ultima creazione artistica! Ciao, io sono Blippi! Stai per tessere una ragnatela? Sì, esatto! Sarà il mio più grande capolavoro! La ragnatela più ragnatelosa di sempre! Oh, mi vuoi aiutare? Sì! Voglio proprio imparare come i ragni tessono le loro ragnatele! È ora di creare! Dibo, io ritorno subito! Oh, Blippi! Puoi essere il mio assistente e testarla! La mia ragnatela sarà un disegno a forma di cerchio con alcuni triangoli al centro! E che tipo di fili usi per fare tutto questo lavoro, Spencer? Sapete? Uso dei fili di seta che faccio io stesso! Escono direttamente dalla mia pancia! Per un ragno o un insetto questi fili sono forti come l'acciaio! Questa cosa è davvero fantastica! Poi faccio i cerchi per completare il mio capolavoro! Mi tieni questo filo in posizione, Blippi? Sì! Uh-huh! Ah-ah-ah! Ah-ah-ah! Oh! Oh! Ed è veramente a forma di cerchio! Sì, perfetto! Afferra quel filo, Blippi! Dondola giù e vieni a vedere! Wow! Fantastico! Aspetta! Quello nella tua tela è il mio ritratto? Sì, sei tu! Il mio capolavoro! Ora metti là la prova! Avanti, saltaci! È resistente? Sì! La parte appiccicosa serve per catturare gli insetti da mangiare! La tua ragnatela è bella e utile, Spencer! E hai risposto alla mia domanda? Come fanno i ragni a tessere le ragnatele? Usano dei super resistenti e appiccicosi fili di seta per creare una ragnatela con un bel disegno a forma di cerchio! Carica la risposta, Dibbo! Grazie per averci mostrato come si fa a tessere una ragnatela perfetta, Spencer! Ciao, ciao! Au revoir! Oh, santi fumi! Un vulcano! Sì, esatto, Dibbo! Quando un vulcano erutta, fumo e lava bollente escono dalla sua sommità? Mi domando, cosa fa sì che un vulcano erutti? Sì, idea geniale! Andremo dentro un vulcano e lo scopriremo! Mi serviranno ali, zampe di ragno e uno scudo termico! Ali, zampe di ragno, scudo termico confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Passiamo attraverso questa presa d'aria laterale del vulcano! Fa decisamente tanto caldo qui! Ehi là, ciao! Io sono Magda, il mostro di magma! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibbo! Vogliamo imparare cosa fa sì che un vulcano erutti? Vi aspetta una vera sorpresa, amici miei! E a proposito di sorprese... Sotto di noi, nelle viscere della Terra, il calore del pianeta fonde le rocce in un liquido noto come magma, come me! Hai ragione, Dibbo! È come uno dei nostri giochi preferiti! Il pavimento è di lava! Il magma diventa lava dopo aver eruttato da un vulcano! Quindi credo di essere io il pavimento! Stiamo salendo più in alto! Questo perché più le rocce si sciolgono sotto, più il magma sale qui nella camera! Ehi, mi domando, dove va a finire il magma? Sta' attento, Blippi! Magma! Ci è mancato poco! Magda, adesso riempi quasi tutta la caverna! Eh sì, hai ragione, Blippi! E man mano che cresco, la pressione all'interno del vulcano aumenta fino a spingerci sulla crosta o superficie terrestre! Tieniti forte! Ora sì, molto meglio! Magda, è stato esplosivo! E io ho avuto la risposta alla mia domanda Cosa fa sì che un vulcano erutti? Un vulcano erutta quando il magma bollente al suo interno accumula una pressione sufficiente per esplodere e lo fa sulla superficie della terra! Carica la risposta, Dibo! Non è stato divertente, Blippi? Un'eruzione di gioia? Lo è stata! Ciao ciao, Magda! Sì, esatto, Dibo! Le foglie sono già quasi tutte cadute dagli alberi! Vuol dire che l'inferno sta arrivando! Wow! Guarda lì che orso grande! Sembra che sia pronto per il letargo! Quando gli orsi si rintanano e si riposano! Come fare tanti lunghi sonnellini! Mi domando, gli orsi come si preparano per il letargo? Per scoprirlo mi servirà il braccio escavatore! Braccio escavatore confermato! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Che fantastica presa che hai fatto! Io sono l'orso Bella! Ciao! Io sono Blippi e lui è Dibo! Ci domandavamo, gli orsi come si preparano per il letargo? È arrivato quel periodo dell'anno? Eh già! È quasi inverno! Oh no! Mi sono divertita così tanto quest'estate che ho del tutto dimenticato di prepararmi! Ho ancora molto da fare! Ehi! Potreste aiutarmi? Ma certo! Grazie Blippi! Diamo un'occhiata alla lista! Prima cosa, dovrò mangiare molto cibo sano e in fretta! Così potrò aumentare il mio grasso e la mia pelliccia! Il pesce è uno dei miei cibi preferiti! Gli ho presi! Oh, giusto! Mangiare! Grazie Blippi! Ora devo anche fare il piano di frutti di bosco! Bella! Non avevi detto che dovevi mangiarli i frutti di bosco? Sì, è vero! Grazie Dibo! Bene! Stiamo facendo progressi! Ma ora viene il difficile! Dobbiamo scavare nel terreno per trovare delle radici! Io conosco un modo per essere ancora più veloci! Bel lavoro, Blippi! Fatti da parte, Dibo! Deliziose! Mi serve solo un'altra cosa per tenermi al caldo! E che cos'è? Qualche imbottitura in più per resistere al freddo! Tanti aghi di pino! La versione per noi orsi di una coperta comoda e grande! Grazie! Ha un aspetto molto accogliente! Ora sono pronta per andare in letargo! E non avrei potuto fare tutto in un solo giorno senza il vostro aiuto! Direi che abbiamo fatto appena in tempo! Grazie per aver risposto alla mia domanda, Bella! Gli orsi si preparano all'etargo mangiando tanto cibo sano! E riscaldando le loro tane per stare comodi durante i mesi invernali! Carica la risposta, Dibo! Allora, buon riposo, Bella! Ciao, Blippi! Prenditi cura del mio hula hop fino all'estate prossima, Dibo! Che bella! Quell'ape sembra molto indaffarata! E anche quell'altra! E anche quella laggiù! Sono tutte indaffarate! Beh, tranne quella là! Quelle api sono impegnate a fare il miele! Hmm, mi domando! Come fanno le api a fare il miele? Sì, potremmo entrare in quell'alveare! Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore! Ali, braccio e escavatore confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora, dobbiamo soltanto diventare come un'ape! Cioè, più piccoli! Miniaturizzazione! Hai ragione, Tabs! La lingua dell'ape è nel fiore! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tabs! Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Bacciafiori! Il miele è il detto! Siete proprio nel posto giusto! Allora, sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare! È così che noi api iniziamo a fare il miele! Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare! Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento! È come una fabbrica di miele! Bacciafiori! Ma stanno tutte masticando nettari! Certo! Lo mastichiamo! È ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso! È normale! Non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, no! C'è molto da mostrare! Mastichiamo! E poi ingoiamo! Il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele! Poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì! È dove noi conserviamo il miele! Ed è possibile assaggiarne un po'? Oh cielo! Potrebbe sembrare strano, ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso! È un'apitudine! Bello! Sì, Tubs! Ora ho la risposta alla mia domanda! Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori! Lo masticano! Lo conservano nello stomaco! Mettono il miele nel favo! E sbattono le ali per riscaldare l'aria! Carica la risposta, Tubs! Ciao, baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao! Uh-huh! Oh, sì! Hai ragione, Dibo! Questo è un attraversamento di canguri! E noi siamo in Australia! In questo territorio non puoi mai sapere quando un canguro può saltarti sulla testa! Oh! Ha fatto un salto spettacolare! Mi domando, quanto in alto può saltare un canguro? Idea geniale! Lo andremo a chiedere a quel canguro! Mi servono le zampe di rana per questa avventura! Zampe di rana, confermate! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Siamo nell'outback e stiamo andando a cercare un canguro! Oh, ehi! Ciao! Io sono Rooney! Che cosa ti porta da queste parti quella tua bella macchina? Ciao, Rooney! Io sono Blippi e lui è Dibo! Volevamo vedere quanto in alto può saltare un canguro! Piacere di conoscervi! Beh, io posso saltare tanto quanto la vostra macchina! E forse riesco a fare dei salti anche più alti! Rooney sta saltando molto in alto! E super velocemente! Ah! Sei abbastanza veloce anche tu! Ti va una piccola corsa, Blippi? Sembra divertente! Molto bene! Corriamo intorno a quella grande roccia laggiù! È arenaria! La chiamiamo Uluru! O Iars Rock! È il cuore dell'Australia! Oh! Che spettacolo! E il primo che torna qui vince! Sì, ci sto, Rooney! A proposito, forse ci sono una o due staccionate in mezzo! Buono a sapersi! Andiamo, Blippi! Salviamo! Attento! Quella staccionata è alta a quasi due metri! Bel salto! Pronto a saltare ancora più in alto? Sì! Che ne dici di un salto di tre metri? Al miglior saltatore che abbiamo mai visto! E adesso ho la risposta alla mia domanda! Quanto in alto può saltare un canguro? I canguri possono saltare fino a tre metri da terra! Carica la risposta, Dibo! È stato divertente! Devo rinfrascare! Ecco perché mi recco il braccio! È tipico di noi canguri! Ciao! Ciao, ciao! Questi sandwich al tacchino devono essere davvero deliziosi! No! Che pasticcio! Ehi! Guarda quella mosca che cammina sul soffitto! Mi domando, come fanno le mosche a camminare sul soffitto? Mi serviranno ali e zampe di ragno! Ali, zampe di ragno, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ehi, Dibo! Credo di conoscere quella mosca! È Orazio! Ciao, Blippi! Come va, amico mio? Come fai a stare lì sul soffitto? Oh, è facile! Guarda questo! Tadà! Eh sì, miei cari! Il soffitto è la mia personale pista da ballo! Salto saltino, saltello e... Ah! Ora prova tu! Va bene, arrivo! Perché la Blippi mobile non riesce a stare sul soffitto? Qual è il trucco? Te lo svelo io! Per starci, devi attaccartici! Attaccarmici? Vedi, le mie zampe producono una colla super appiccicosa che mi aiuta a restare attaccato al soffitto! Tieni! Provani un po'! Lo faccio subito, se mi permetti! E riproviamo! Oh! Oh! Ora ci riusciamo anche noi! Guarda lì! Che delizioso pasticcio! La colla ci ha incollati un po' troppo! Questo perché non stai facendo il twist zampa di mosca! Il twist zampa di mosca? Sì, esatto! La colla di mosca è così forte che dobbiamo spingerci via con la forza del soffitto per camminare! Guarda! Così! Baru baru! Come così? Sì, ci sei! E ora facciamolo insieme! Tu con questo twist! Sì, con questo twist! I tuoi piedi puoi liberare se continui a ballare! Ce l'abbiamo fatta! E io ho la risposta alla mia domanda! Come fanno le mosche a camminare sul soffitto? Le zampi delle mosche producono una colla speciale che le tiene attaccate al soffitto! Carica la risposta, Dibo! Beh, adesso io vado a mangiare qualcosina! Con permesso! Ci si vede, Blippi? Fa pure, Orazio! Ciao! Guarda lì tutti quegli elefanti! Mi domando, gli elefanti per cosa usano la loro proboscide? Hai ragione, Dibo! Dovremmo chiederglielo per scoprirlo! Mi serviranno tubo dell'acqua e zampedanatra! Tubo dell'acqua, zampedanatra, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Oh, caspita! Oh, sì! Tuffa-bomba! Oh, sì! Ciao! Io sono Blippi e lui è Dibo! Ci domandavamo gli elefanti per cosa usano la loro proboscide! Ciao, Blippi! Ciao, Dibo! Io sono Tempo! Noi elefanti usiamo la proboscide per rinfrescarci un po'. Aspiriamo l'acqua e ce la spruzziamo su tutto il corpo. Dici così? Facciamo di nuovo lo scivolo e corriamo fino alla riva! Sì, ci sto! Primo! Oh, come fai a respirare sott'acqua? È un'altra caratteristica della mia proboscide. Mi permette di respirare. Oh, proprio come il mio naso! Esatto! Ehi! A proposito di naso... Sento odore di banane! Gli elefanti hanno un olfatto molto sviluppato! Andiamo, saltate sulla mia grappa! Oh, forte! Grazie! Guarda, possiamo fare lo scivolo anche lì. Sarebbe davvero bello, ma la strada è bloccata. Sta a guardare! Un'altra cosa bella delle proboscide è che posso spostare praticamente qualsiasi cosa. L'ultimo a scendere è un bradipo! Questa è la più bella giornata di sempre! Pronti o no, io sto arrivando! Sì! Gli elefanti usano la proboscide anche per emettere suoni, come quando siamo tanto contenti! È fantastico! Grazie, Tembo, per avermi aiutato a trovare la risposta alla mia domanda. Gli elefanti per cosa usano la loro proboscide? Gli elefanti usano la proboscide per allusare, respirare, emettere suoni, aspirare acqua e persino afferrare oggetti! Carica la risposta, Divo! Ciao, Blippi! Ci vediamo qui nella savana! Ciao, ciao, Tembo! Oggi ci siamo divertiti un mondo! Ciao, ciao! eh